La pioggia non ha impedito all'amministrazione comunale di Tortoreto di inaugurare il nuovo sportello di informazione e accoglienza turistica che è stato realizzato sul lungomare Sirena nelle immediate vicinanze della rotonda. L'assessore Giorgio Ripani ha spiegato la strategia adottata dal comune. C'era bisogno di razionalizzare i due punti informazione che adesso diventano uno, quindi non più in differenti zone di Tortoreto ma nel pieno del lungomare, pienamente visibile, ma c'era bisogno anche perché volevamo una struttura moderna, efficiente e sostenibile dal punto di vista ambientale e quindi questa sarà la base per potenziare anche il servizio nei mesi futuri. Costato circa 100.000 euro e costruito con materiali ecocompatibili, lo IAT sarà in grado di offrire ai turisti ogni tipo di informazione. Troveranno uno sportello moderno con un front office attrezzato, uno schermo dove proietteremo tutte le immagini e soprattutto tutte le informazioni necessarie. Poi ci sarà anche un back office, quindi potremo anche eventualmente ospitare degli incontri laddove sarà necessario, sempre ai fini della promozione turistica. Dal primo giugno sarà pienamente attivo e offrirà ogni tipo di informazioni, comprese anche i contatti con le nostre strutture, alberghiere e balneari. La stagione estiva sta per decollare. Il nuovo IAT di Tortoreto che verrà gestito dalla DMC Adriatica del presidente Gianmarco Giovannelli, come ha ricordato anche il sindaco Domenico Piccioni, sarà un vero e proprio punto di riferimento per i vacanzieri. Abbiamo fatto questo punto proprio per dare maggiori servizi alla collettività, ai turisti, a quelli che passano a Tortoreto, ma non solo per promuovere il nostro territorio, le nostre manifestazioni, le nostre attività culturali, ma anche per dare informazioni su tutta la nostra provincia. Il sindaco sarà operativo fino a quando? 12 mesi l'anno, sarà aperto sempre, con partenza dal primo giugno, sarà strutturato 12 mesi l'anno.